Questa sera la musica entra nelle scuole, una musica che di solito in queste sedi non si ascolta. Sì, dunque è stata un'iniziativa della nostra preside ospitare questo concerto che si svolge nell'ambito del Festival Barocco. Come le diceva giustamente le sedi abituali sono le chiese, ma è la prima volta, forse insomma, non è molto comune che si svolgano all'interno di una scuola e l'edificio, il Mamiani è un edificio, insomma, anche un monumento di per sé ed è molto importante perché, insomma, c'è l'auspicio che ci sia anche un'educazione musicale da parte dei nostri studenti. La musica è sempre stata un po' la cenerentola del nostro sistema educativo, quindi ecco, è il primo evento di una serie che auspichiamo sia lunga e, insomma, proficua per i nostri ragazzi.